Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo I Meriti Grandiosi. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse, attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. La grandezza dell'uomo virtuoso è un qualcosa di bello, sublime, perché è ricco di ogni scienza e sapienza. Quindi, quando troveremo le persone virtuose, sapremo di trovare persone sapienti, sagge, che vivono di quella pienezza vitale e di naturale e sacra costanza. Quindi, i meriti santi ed eccelsi che vivono sono donati direttamente dall'Onnipotente che le arricchisce giorno dopo giorno di bellezza e splendore. Siamo invitati quindi a seguire gli esempi grandiosi e belli di queste persone che ci fanno vedere cose belle e buone. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo I Meriti Grandiosi. Grandioso è l'uomo virtuoso, ricco di ogni scienza e sapienza, degno di ogni stile prodigioso, colmo di naturale e sacra costanza. I misteri gaudiosi, chi li potrà svelare? Il Signore portentoso e sublime ce li saprà evidenziare col suo stile solenne. I meriti santi ed eccelsi, colmi di ricca speranza, sono i degni aneliti di ogni sacra essenza. I meriti eccelsi e santi ci sapranno donare degnamente nella vita i loro grandiosi gaudi che vivremo con spirito clemente. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.